Simone e Simona Belegati, una copia nel lavoro e nella vita che ha definito un nuovo stile per le borse di lusso made in Italy. La nuova collezione per l'autunno-inverno 2015-2016 è stata suddivisa in tre aree di gusto. La prima è Eternity, contraddistinta da linee classiche, sobrie, che non passano mai di moda. Abbiamo dato grande valore all'accessorio, in galvanica e in oro, agli interni, le cuciture, questo è un po' come per tutta la collezione. Poi abbiamo la linea bohemienne. Queste sono borse per una donna hippie chic, underground, che però affronta la vita con determinazione. E poi abbiamo la linea Vanguard, a cui tiene particolarmente Simona. È una linea che ho disegnato per una donna cool, che può affrontare la giornata con grinta, dove sono stati mescolati pellami di prima qualità e catene oro che le danno l'energia per affrontare la giornata, ma anche la sera. È una donna che non ha paura.